In questo breve video analizzeremo come utilizzare un codice promozionale. Per prima cosa, dopo aver individuato il prodotto da acquistare, lo andremo a inserire nel carrello. A questo punto andremo ad inserire e a digitare nella finestra in basso a sinistra il codice sconto ricevuto. Dopodiché, cliccheremo sul pulsante Applica coupon. A questo punto, se il codice è valido, la promozione apparirà nel conteggio del totale e sarà così possibile procedere nell'acquisto.